In serio, dici qualcosa su Ascanews? Ciao, come stai cara? Bene. Forza, mi raccomando, dai, bocca al lupo, andiamo. Sono la città di stampa Ascanews, siamo in crisi. La nostra vicinanza e i lavoratori che stanno combattendo, abbiamo posto questo tema all'attenzione del Ministro Lotti. Ciao ragazzi, bocca al lupo a tutti, forza.